Un'importante risorsa è stata localizzata. Le forze ossili tenteranno di fermarti. Chiudi l'area. Ricevuto. Peccato. Cerca il palo. Granata. Convincente. Convincente. Efficace. Bastardi. Disattivazione. Superiore. Drone attivo. Ferito. Piazzevole. Non bagniamoci. Bastardi. Piazzevole. Granata. Maledicone. Maledicone. Cominente. Cominente. Arrivano. Maledicone. 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 Vieni. Maledicone. Maledicone. Lo cobbiamo. Mi cobro. Maledu. Sì, mi hanno preso. Superiore. Cospegnimento sistema. I sensori dicono che ne è rimasto solo uno. Ultimo stile. Piacevole. Scudi distrutti. Disattivazione. Tutto ok, ben fatto. Il nemico si sta riorganizzando. È il momento di ricaricare. Forza nemiche in avvicinamento. Ok, ricevuto. Ok. Ok. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche in avvicinamento. Forza nemiche in avvicinamento. Cosa differ? Merda! Brone in azione! Muoversi! Scusami fuori! Su! Uomo a terra! Drone attivo! Granata! Merda! Montamento. L'hanno colpito! A presto! 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 A presto!